La conduttrice bresciana debilitata dalla chemio ma rivitalizzata dall'affetto dei fan Ieri sera in occasione dell'ultima puntata stagionale delle Iene Show, Nadia Toffa ha deciso di raggiungere Alessia Marcuzzi e Nicola Savino per fare un saluto ai telespettatori del programma di Italia 1 Durante la puntata finale la giornalista bresciana ha fatto irruzione nello studio, e col sorriso che la contraddistingue ha dato appuntamento a tutti per la fine di gennaio 2019 Nadia Toffa fa una sorpresa ai colleghi delle Iene Show.Qualche ora fa, invece, Nadia Toffa è tornata sui suoi profili social pubblicando due scatti La giornalista bresciana si è mostrata con l'outfit indossato ieri sera in occasione dell'ultimo appuntamento del 2018 delle Iene Show, il programma Mediaset che l'ha resa popolare La conduttrice è vestita con un abitino nero, e il colletto, e le maniche bianche. La donna ci ha scherzato su affermando che ieri sembra essere uscita da colazione e da Tiffany, il celebre film Nadia Toffa è il messaggio sul suo profilo Instagram.Buongiorno bella gente! Ieri sera irruzione a sorpresa dai miei amici Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, siamo davvero una grande famiglia Ci vogliamo un bene sincero e profondo? A voi che mi leggete dico che parlarvi attraverso l'elettrodomestico TV mi fa sentire viva e mi ricarica delle energie che mi succhia la chemioterapia Ha scritto Nadia Toffa sui social. Quest'ultima, inoltre, ha augurato una buona giornata a tutti, anche se è gelida tuffandosi in una tazza di caffè bollente Ecco il suo post integrale Ecco il suo post integrale